L'altro giorno ho visto Ben, ho messo la sua maschera e tutti pensavano fossi Marco! Hey Link, grazie ancora per essere il nostro ospite speciale del nuovo Mario Kart! Comunque, ora che ti sei aperto ai giochi diversi, volevo chiederti, vorresti prendere parte al mio nuovo gioco di bowling? Si intitola Mario Super Pinheads! Che ne dici Link? Bowling, bowling, il mio nuovo gioco di bowling! Link? Ma dove? Link? Eccoti qua, Link! Ti ricordi ancora di Villager? Ci starà anche lui in Mario Kart! Ehi ragazzi, avete pensato di andarvi ad iscrivervi al tuo canale? Vedete che ci trovate tanta roba bella! No, non sono uno Villepulcinella! Io sono Mario! Io sono Mario quello di Mario Kart! Divertitevi! c'è un'altra notizia? Ha detto che c'è un'altra notizia, non le voglia di fare! Grazie.